Ciao a tutti e ben ritrovati, io sono Gabriele e questo è il mio canale di programmazione Aidenhain. Quindi bentornati se siete abituali frequentatori, benvenuti se è la prima volta che incappate in uno dei miei video. Poco tempo fa avevo pubblicato un video in cui mostravo come impostare l'editor della tabella utensili. Ci sarebbe un'altra cosa che riguarda la tabella utensili, che riguarda diciamo l'editor, che ho messo nel video precedente, mi sono sentito in colpa e ho deciso quindi di realizzare un altro video. Allora, se tu che mi ascolti sei già un programmatore dovresti già sapere che quando si è in programmazione, e bisogna indicare quindi la chiamata di un utensile con il comando tool call, lo si può chiamare con il numero oppure con il nome utensile. Lasciamo perdere adesso le variabili stringa. Sapete anche che in basso a sinistra è presente il softkey seleziona, che mi permette di scorrere direttamente la tabella utensili e caricare quindi l'utensile che mi occorre. In realtà molte macchine sono impostate come è impostato questo simulatore, ovvero che alla chiamata tool call di default è posizionato attendendosi un numero di riferimento. Quindi da chiamare l'utensile 1, l'utensile 5, l'utensile 7. In questo caso, quindi, molte macchine sono strutturate in questo modo, sono impostate in questo modo. E se in questo momento il controllo sta attendendo un numero, identifichi l'utensile che voglio chiamare, nel comando seleziona non mi viene mostrato il nome. Mi viene mostrato il numero e mi vengono mostrati dei dati, la lunghezza, il raggio e il tipo di utensile. Normalmente questo qui è un assetto abbastanza standard. Poi dipende, in realtà dipende da come poi il costruttore ha deciso di impostarvi queste tabelle. Però molte volte mi sono accorto che il costruttore se ne disinteressa abbastanza e lascia le cose di default, insomma ha cose più importanti di norma da occuparsi il costruttore della macchina, che non vedere questi dettagli. Quindi, se io sono in, diciamo, modalità tool call numero, se io premo il comando seleziona, mi viene mostrata una tabella solamente col numero, lunghezza, raggio e tipologia di utensile. Viceversa, se io invece seleziono che voglio indicare il mio utensile con un nome, allora a questo punto il comando seleziona mi mostra anche il nome. La verità è che molte volte fa comodo leggere il nome dell'utensile, la descrizione che si è inseriti, anche se si intende poi chiamarlo come T7, T10, T15. Ok, quindi vediamo come fare. Vediamo come fare ad impostare quella tabella di selezione a nostro piacimento. Quindi, bisogna andare nei parametri macchina. Ora io sono in programmazione, premo il tasto mod e alla richiesta dell'immettere il codice chiave dovrò indicare il codice 95148. Codice storico, classico, ha i denine per entrare nella parte di parametri macchina. Quindi 95148. Ora, quindi lo inserisco, 95148. Ok, arrivato a questo punto, premo il softkey, il softkey config data. Mi vengono presentate le quattro directory, cui è contenuto tutta la parte di parametri macchina. Ok, noi dobbiamo andare in system, quindi dobbiamo aprire system. All'interno di system dobbiamo scorrere un bel po' verso il basso finché non troviamo la directory table settings. Ok, entriamo in table settings. Anche qui ci sono tutta una serie di directory. Quella che occorre a noi è config table filter. Apriamo e qui troviamo tutta una serie di configurazioni delle varie tabelle che sono presenti all'interno del nostro controllo. Ce ne sono due che riguardano gli utensili. C'è la 1 tool e c'è la 2 tool. Queste sono appunto la 1 è, diciamo, la selezione quando il tool call richiede un numero. La 2 è la selezione di quando invece il tool call richiede il nome. Ora, se noi entriamo in tool 1, possiamo vedere nella riga select che infatti ci mostra che le colonne che ci verranno mostrate faranno la colonna T, la colonna L, la colonna R e il tipo di utensili. A questo punto io posso decidere di modificarlo. Dopo la colonna T io voglio anche visualizzare la colonna Name. Quindi scrivo Name e indico la virgola per separare i campi. Confermo con OK. Premo il soft key, memorizza. Mi richiede di nuovo di memorizzare dopo che mi mostra quindi il tipo di modifica che ho fatto, il valore precedente, il nuovo valore. Memorizzo. Esco dalla parte di parametri. Ritorno nel mio programma. Tool call. Ora sono di nuovo con selezionato il soft key numero utensile ma premendo il comando Seleziona vedete che ora anche qui mi mostra la colonna Name. Quindi se io voglio chiamare il mio T10 e in questo modo ho visto che è la presa da 20 di sgrossatura posso selezionarla che me la caricherà comunque con il numero ma almeno in quell'editor di tabella posso visualizzarla anche vedendo il nome. Ok? Secondo me un'altra cosa interessante, utile diciamo, più che interessante, potrebbe essere quello di poter vedere in questa selezione anche eventuali valori eventuali valori che so del DR. Io potrei avere caricate più di un utensile con lo stesso raggio e magari mi occorre anche visualizzare se già da tabella ho inserito una maggiorazione, un sovrametallo del raggio utensile. Potrebbe magari non fregarmene di vedere la colonna del tipo di utensile perché magari la mia descrizione nel nome è sufficiente e non ho compilato nelle parti più avanti dalla tabella utensile non ho mai indicato la tipologia. Quindi potrei voler però vedere la colonna DR. E allora allo stesso modo andiamo in MODE così rivediamo la procedura. veniamo qui e indichiamo il codice 95148 quindi 95148 config data a questo punto è entrato nella parte di parametri vado su system all'interno di system vado a cercare la mia colonna la mia directory table setting all'interno di table setting vado su config table filter ritorno sulla mia tool 1 ritorno sulla selezione delle colonne che io voglio visualizzare e potrei decidere che dopo il raggio prima del tipo di utensile io voglio anche visualizzare il DR quindi DR virgola premo ok magari la stessa cosa voglio farla anche quando chiamo per nome perché magari anche lì mi occorre quindi facciamo di averle uguali quindi dove voglio sempre vedere il numero dell'utensile il nome la lunghezza il raggio eventuale sovrametallo radiale del tipo di utensile ok memorizzo memorizzo esco dalla parte dei parametri ora ritorno qui seleziono e quindi ora vedo il T il nome la lunghezza il raggio l'eventuale valore di DR e la tipologia di utensile in questo modo ho diciamo una visione un po' più diciamo ampia un po' più ampia dei miei dati utensile che mi occorre tenere magari monitorato nel momento in cui all'interno del programma devo andare a selezionare l'utensile idoneo alla mia lavorazione ok nient'altro da dire era questa piccola grande cosa spero che che vi faccia piacere ricordo sempre di prestare comunque attenzione quando si va a modificare delle parti di parametri della macchina ok ora io vi ho dato diciamo l'imbeccata per fare questa per fare questa modifica non andate a casaccio nelle parti di parametri o prestate molta attenzione insomma non mi assumo la responsabilità di eventuali danni che poi potete provocare alla vostra macchina ok niente tutto qui ragazzi buon lavoro vi voglio bene ciao ciao a tutti grazie 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 a tutti